Clive nasce dall'idea di tradurre in piccolo quello che la mia mente ha immaginato per l'architettura. Un mondo che ci fa scoprire un modo diverso di vedere le cose. It's time to change reality. La collezione Kinetic Dome vede riproposte le mie cupole cinetiche, in oro bianco 18 carati, diversi diametri, con un vetro zaffero, dei segni quasi dipinti a mano che rifrangendosi all'interno della cupola creano l'illusione che qualcosa esca fuori. Le mie opere vogliono coinvolgere lo spettatore, nello specifico vogliono trasportarlo e portarlo in un mondo immaginario. Stiamo lavorando con una collezione che riproporrà quasi tutte le mie opere scultore. Immaginatevi di svegliarvi il mattino, indossate un gioiello che vi dà un'energia in più, un'energia in grado di farvi sognare e farvi vedere le cose in maniera diversa. L'idea è quella di far vivere esperienze uniche indossando arte vera e propria. L'idea è un'energia in grado di farvi sognare e farvi sognare e farvi sognare e farvi sognare e farvi sognare. All'idea è un'energia in grado di farvi sognare e farvi sognare e farvi sognare e farvi sognare.